gentili signore e signori buonasera benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento pianeta oggi report dunque quest'oggi andremo a conoscere delle persone che sono amanti della vita amanti del pianeta che lavorano a favore della vita per la difesa del territorio tutto questo in occasione del processo del contratto di fiume che oramai si sta estendendo un po come dire la macchia di leopardo in tutta italia all'estero sono molto più avanti rispetto a noi il sottoscritto si è recato in località battaglia terme siamo in provincia di padua in occasione di un convegno dunque possono partire subito tutti i nostri servizi iniziamo subito con il professor francesco ballerani dell'università carfoscari di venezia noi ci vediamo dopo ecco le chiedo molto semplicemente cosa ne pensa di questo processo del contratto di fiume potrebbe essere la soluzione per sistemare questo territorio cementificato un territorio dove è ricco di acqua di fiumi che hanno dei grossi problemi allagamenti eccetera soluzione certo no non può essere concorre a migliorare la situazione potrebbe essere un'opportunità per affrontare con serietà un questo problema che deriva soprattutto da una pessima cattiva urbanistica che ha cementificato il territorio impedendo uno scorrimento e un assorbimento prima uno scorrimento minore delle acque durante le fasi di massima piovosità ecco il contratto di fiume dice che bisogna vedere il fiume come portatore di ricchezza e non come un problema ecco è altresì vero che il fiume attira anche gli artisti molte molti artisti sono ispirati a fare dei quadri proprio in prossimità di un fiume ad esempio sì questo avveniva soprattutto in passato soprattutto nei secoli passati ora purtroppo è ben difficile trovare qualcosa di interessante oddio sì ci sono ancora degli degli scorci comunque il fiume è una ricchezza culturale di identità di una popolazione che vive lungo le sue sponde ma anche di un contesto regionale più allargato ecco voi so che ogni tanto li ripulite i fiumi o comunque cercate insomma di portare un miglioramento cosa trovate c'è tanto sporco dipende pulizia delle sponde sì sono delle iniziative soprattutto di quello che viene rilasciato abusivamente nottetempo di solito lungo boschi golenali per quanto riguarda le acque invece no non ci compete noi auspichiamo con il contratto di fiume di stimolare una maggiore coscienza da parte dei cittadini nei confronti della di questo prezioso patrimonio di biodiversità secondo lei per concludere le persone come reagiscono a questo questa nuova informazione a questa nuova cultura del contratto di fiume beh chi ha voglia di ascoltare partecipa e ci segue in genere sono persone già formate già con una coscienza ambientale coscienza dei problemi noi vorremmo aggiungere anche le persone che indifferenti che si accorgono del problema ambientale solo quando ormai i guai sono fatti ringrazio il buon lavoro grazie a voi bene ringrazio il professor francesco valerani ed ora diamo la parola a fabiana turatto dell'associazione la vespa di battaglia terme vediamo allora qui con noi abbiamo l'onore di avere fabiana turatto e dico onore perché insomma noi ammiriamo moltissimo tutte quelle persone che lavorano a favore della vita per la difesa del territorio dell'ambiente delle acque eccetera ecco di che associazione sei dell'associazione la vespa però diciamo che sono anche all'interno del comitato una mano per battaglia e collaboro con la giunta comunale di battaglia terme ecco voi vi siete avvicinati a questo processo di contratto di fiume per quale motivo e beh essendo stata diciamo allagata e essendo all'interno dell'associazione la vespa un associato mi aveva proposto di approfondire i contratti di fiume e proporlo al comitato ed eventualmente anche alla giunta che è passata e per come soluzione alternativa alla gestione del problema idrico dell'acqua e approfondendo via via i vari incontri a me poi personalmente mi è proprio piaciuto perché non ho mai creduto nelle grandi opere ma penso che le gestioni così piccoli interventi sono più come si può dire più utili proprio per le esigenze del territorio più efficaci e anche meno invasivi per il territorio più monitor più con più facilità di monitoraggio rispetto a delle grandi opere che poi è veramente magari io non sono tecnica non ho competenza però nell'approfondire mi sono resa conto sempre di più e poi mi piacciono le modalità cioè il fatto di avere una vision molto più aperta rispetto ad un problema questo come un po filosofia di vita ecco tu cerchi anche di creare come dire degli spazi per promuovere questo argomento e beh io cerco di spingerlo molto questo argomento nel senso che penso che è da farlo conoscere a prescindere e penso che lo avrei promosso e divulgato anche se non fossi stata lagata proprio perché ci mi piace ci credo sia da promuoverlo con tutte le difficoltà che sicuramente comporterà un processo di questo tipo ecco ci sono delle difficoltà nel portare avanti questo argomento? Io tutto sommato è un anno che mi ci dedico e penso sia poco rispetto a chi si dedica nel territorio e lo fa da tanti anni e non sempre ha risultati insomma immediati anzi. Ecco tu sei stata lagata e hai detto cosa si prova in quel momento ma non solo in quel momento anche dopo c'è la paura di essere nuovamente con l'acqua in casa perché diventa un fatto psicologico? Non mi sento neanche così non ho vissuto proprio esageratamente mi è dispiaciuto più per i vicini perché alla fine mi si è lagato solo il laboratorietto dove lavoro io però senza avere danni e è stato la prima volta perché non mi è mai entrata certo che se la cosa si ripetesse per più giorni non è che mi renderebbe felice comunque insomma. Fabiana ti ringrazio molto per queste spiegazioni che possono essere ad esempio anche per altre persone che volessero in altre parti d'Italia perché il contratto di fiume fa parte un po' di tutta Italia ecco può essere motivo anche per altre persone di poterlo applicare o impegnarsi insomma nel portare avanti nelle loro zone questo argomento. Grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto grazie. Riprendiamo da studio ringraziamo anche Fabiana Turatto dell'associazione La Vespa ed ora sentiamo anche un'opinione di come dire uno che ha subito i disastri del territorio le conseguenze di un territorio diciamo così non rispettato. Lui è Fabrizio Zabeo rappresentante del comitato allagati dell'Inter veneziano. Vediamo dunque cosa ci ha detto ai nostri microfoni. Allora qui abbiamo anche Fabrizio Zabeo che è del comitato allagati dell'Inter veneziano di Favaro Veneto ecco naturalmente tu sai cosa vuol dire acqua alta in casa cioè che ricordo avevamo filmato quella mattina anzi quella sera ormai 80 centimetri che arrivava praticamente al tavolo di cucina quindi giusto per dare un'immagine ai nostri telespettatori. Cosa si prova Fabrizio? È difficile comunque poterlo spiegare se non si è allagato non si capisce la fobia dell'allagato qual è però vorrei allacciarmi ecco al discorso di prima nel senso che noi allagati abbiamo capito una cosa che innanzitutto le mille competenze nell'idraulica ma è in tutto ve ne portano zero responsabilità pertanto questo l'abbiamo ben capito e adesso va bene sappiamo anche in ogni caso capire chi in realtà è o di chi è la responsabilità. Un'altra cosa che ho sentito precedentemente che mi piace è non crediamo nelle grandi opere non devono venire fuori grandi opere dobbiamo ritornare alla gestione dei fossi alla semplice gestione senza usare pompe più naturale dobbiamo ritornare al naturale certo che dove ci sono state quelle selvagge cementificazioni lì purtroppo dovremo probabilmente affrontarlo a monte allora io dico che potremmo salvarci se recupereremo e qui lo siamo in un museo anche dell'imbarcazione potremmo recuperare il tempo perso e anche va bene i fossi persi solo recuperando in quell'aspetto va bene prima che invada la città va bene l'acqua i fossati i canali ripulendoli facendo in modo che ci che ritorni quella sensibilità da parte di tutti parto dal cittadino per arrivare comunque all'amministratore comunque a chi gestisce va bene l'acqua dove devono riprendersi le proprie responsabilità tecnici dove dovranno comunque capire che se le cose non funzionano o devono denunciarle o se no saranno responsabili loro di quello che continuerà ad accadere ma noi siamo convinti che la partecipazione il contratto di fiume ma credendo soprattutto anche i fossi va bene possa salvarci cioè si può ritornare ad una minima sicurezza ecco e questo è e purtroppo questo è quello che auspica va bene l'alagato cioè di poter dormire tranquillamente quando c'è un minimo temporale ecco e mi auguro che adesso nel 2015 si inizi anche in questo campo a rivedere la possibilità di ritornare al naturale le pompe le idrovore servono però dobbiamo cominciare a riusare quello che è il naturale vale a dire canali fossi e l'acqua va bene incamerarla e lentamente farla scendere aggiungo io meno cementificazioni in italia e soprattutto quello e soprattutto anche le cave tutte quelle cose oramai esistenti non vanno riempite di porcherie va bene ma vanno lasciate liberi che erano un toccasano per recuperare l'invarianza ecco ed era anche un'invarianza naturale tanto avevo usato per fare case tanto avevo scavato cave noi le abbiamo riempite di porcherie di ogni genere e abbiamo abbiamo rimesso anche diciamo dell'utile spazio d'acqua ecco e questo è quello che mi auspico grazie a fabrizio zabeo anche a te buon lavoro grazie mille ringraziamo fabrizio zabeo ricordo rappresentante del comitato di un noto comitato dell'inter veneziano ed ora prima di chiudere vorrei lasciarvi ad una immagine molto importante perché ne ha parlato anche la stampa i giornali alcuni giorni fa in località carle precisamente al santuario di carle all'interno della chiesetta si è formata un'immagine che rappresenta la madonna dunque ci sono state le fotografie che sono state messe nel giornale siamo andati anche noi a fare delle riprese e vi vogliamo far vedere queste immagini senza commento poi voi naturalmente potete trarre le vostre riflessioni insomma le vostre conclusioni e ringrazio per la collaborazione a queste riprese paolo gavanzo dell'emittente radiofonica di fontana fredda vediamo dunque queste immagini noi ci vediamo tra pochi secondi grazie a tutti riprendiamo da studio giusto per concludere qui il nostro settimanale di oggi pianeta oggi reporter grazie per averci seguito prossimo appuntamento a tra una settimana come sempre a voi tutti un buon proseguimento con le nostre programmazioni